C'è ancora tempo per accedere agli avvisi per l'annualità 2019 dei fondi Restart, il programma con una parte delle risorse destinate alla ricostruzione viene utilizzata per lo sviluppo delle potenzialità culturali e la promozione dei servizi turistici. I bandi sono pubblicati sul sito del Comune dell'Aquila, i termini dentro i quali sarà possibile presentare le domande per due filoni, il B2A e il B2B e il C, è il 30 settembre del 2019, mentre la scadenza per i filoni A1 e A2 è fissata per il 15 ottobre prossimo. Ammonta a 2,5 milioni di euro la dotazione delle risorse che si articoleranno su quattro direttrici. I bandi pubblicati sono relativi al filone A, soggetti finanziati dal FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, A1 per lo Spettacolo dal vivo e A2 per il cinema, con una disponibilità di 1,3 milioni. Il filone B2A è per progetti e attività ricadenti sul territorio del Comune dell'Aquila, con una somma a disposizione di 200 mila euro e per il filone C, per progetti e attività dei comuni del cratere raggruppati per anni omogenee, con una disponibilità economica di ben 400 mila euro. I progetti promossi dal Comune dell'Aquila nell'ambito del filone B1, per donanza a Festival del Jazz, Notte dei Ricercatori, Festival della Montagna e Cantieri dell'Immaginario, sono stati finanziati per complessivi 600 mila euro. Sono stati inoltre riaperti anche i termini del filone B2B, incubatore di creatività, che prevede due fasi, formazione e progettazione successivamente dopo la selezione e la realizzazione dei migliori progetti di attività. Gli avvisi 2019 prevedono, nel rispetto delle linee guida approvate lo scorso anno, alcuni cambiamenti positivi, risultato di una concertazione effettuata con i soggetti attuatori. Tutti i progetti saranno sottoposti alla valutazione di una commissione esterna.